No, ovviamente contento, è un onore, un orgoglio difendere questa maglia, però c'è sempre un sapore amaro, dopo questo risultato non c'è molto da dire. Penso, c'è bisogno ovviamente dopo vedere bene la partita al fresco, però penso che abbiamo sbagliato magari troppi placaggi, che ovviamente i francesi ce li hanno fatto pagare. Eppure magari in attacco abbiamo fatto delle azioni, abbiamo preso anche dei buchi, però non siamo riusciti a trasformare i punti, quindi quella si paga caro. Sicuramente un po' su questi aspetti che ho appena detto, sicuramente come risolviamo dopo prendere un buco, dopo fare un line break, sicuramente sugli aspetti difensivi pure.